buongiorno ragazzi e bentrovati siamo qua per il terzo appuntamento con i trasferimenti estivi e le relative carte che potremo avere su fifa 19 ultimate team allora ci sono tanti nuovi trasferimenti oltre chiaramente come abbiamo accennato una settimana fa circa il trasferimento ufficiale di cristiano ronaldo intanto scusate ma è il quarto appuntamento non il terzo mi sono sbagliato quindi dicevo con l'ufficialità di cristiano ronaldo andiamo nel campionato spagnolo dove abbiamo il primo acquisto di cui parleremo oggi che è l'englet è un difensore centrale approdato al barcellona per circa 35 milioni un buon difensore discreto e anzi più che discreto per quanto riguarda foot perché ha un buon parametro di velocità e potrebbe avere un upgrade fino a 80 di overall il secondo trasferimento di cui parliamo molto interessante fabian ruiz approdato per circa 30 milioni al napoli dal betis in spagna è interessante perché ha 22 anni quindi è giovane ha già giocato ha fatto mi pare 5 presenti circa il nazionale under 21 ed è un centrocampista centrale può giocare anche esterno di sinistra è interessante perché ha ottime ambizioni per il futuro il terzo trasferimento interessante di cui parliamo è odrio zola il terzino destro anche lui giovane ha prodato al real madrid quindi le squadre spagnole si stanno rinforzando in difesa lui oltre aver fatto presenze in 21 ha fatto anche quattro presenze e un gol nelle partite premondiale con la propria nazionale 22 anni anche lui e giocava alla real sociedad quindi prevediamo un upgrade del suo valore per arrivare ad 80 che può essere un ottimo difensore destro a inizio a inizio foot quando ancora diciamo c'è poca disponibilità quarto giocatore è un ex centrocampista centrale della salvdoria torreira e ha fatto vedere grandi cose nelle ultime stagioni ed è passato per 30 milioni all'arsenal fino a pochi giorni prima lo accostavano a parecchie squadre della premier poi l'arsenal è riuscito a accappararselo è un ottimo centrocampista difensivo ma volendo anche un buon tiro da fuori quindi riesce a a far qualche gol in campionato ha fatto ha mostrato le sue doti anche al mondiale con uruguay quindi un ottimo acquisto per la premier e per l'arsenal a seguire un altro ex della serie a sarà felipe anderson felipe anderson che passa per circa 38 milioni compresi bonus dalla lazio al west hem è una perdita importante per la lazio perché un giocatore tipo quadrado che può spaccare la partita purtroppo a causa di infortuni qualche discontinuità non ha mai reso al massimo speriamo per lui possa essere l'occasione giusta per dimostrare le sue qualità l'ultimo giocatore di oggi e forse più importante di cui parliamo è riad mares che si trasferisce dall'eister al manchester city per circa 60 70 milioni di euro è un trasferimento importante prima cosa per la sua carriera e per il suo portafoglio ovviamente no però però diciamo che farà difficoltà a trovare spazio perché davanti il city gioca a tre con guardiola e c'è sterling a destra a sinistra troviamo sané e in mezzo c'è gabriel jesus e agguero quindi difficilmente troverà spazio è anche vero però che il city gioca su tre fronti champions premier fake up community shield chi più ne ha più ne metta per cui diciamo che troverà anche il suo spazio per regalarci qualche carta if la sua carta del foot 19 potrebbe avere ovvero il 85 ultimo trasferimento sempre in premier league è l'acquisto di jarmo lenko da parte del west ham che sta facendo veramente una bella squadra ha fatto ottimi ottimi rinforzi in questo inizio inizio mercato estivo si trasferisce per circa 20 milioni dal borussia dortmund quindi dalla bundesliga è interessante perché ha ancora 28 anni quindi l'età giusta per esplodere è un bel esterno d'attacco esplosivo alto fisicamente per cui potrebbe potrebbe far tanto in premier league se volete comprare crediti per fare compravendita per sniperare qualcosa sul mercato di foot per qualsiasi console link in descrizione fifa coins by 7 per cento di sconto con il codice fu 18 italia bella grazie per l'ascolto ragazzi grazie per la visione ricordatevi di iscrivervi al canale mettere un like al video un saluto da lucio e da fu 18 italia ciao